buongiorno a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video di we are macumba siamo ritornati quindi oggi andiamo a vedere dove trovare quindi vi premento che siamo su gta 5 stiamo qui in questo punto qui vi volevo far vedere che in questo punto ho trovato una barca dove potrete una volta saliti sopra potrete trovare la muta da sub quindi vi segnalo il punto che è questo qui e ora andiamo a vedere bene nel dettaglio eccolo qui la nostra barca in fiamma in acqua quindi ora dovrete salire sulla barca aspettate un attimo che riesco a salire ecco qui quindi il punto è questo che lo faccio anche rivedere della mappa è questo ora noi andiamo in mare per vedere se la nostra tuta da sub comparirà ecco abbandoniamo la costa qui già va bene e vi immergete ecco qui e come per magia vi apparirà questa questa muta da sub e questa muta da sub serve per per restare in acqua sott'acqua per molto tempo quindi nei prossimi video vi faremo vedere dove trovare anche i tesori che sono nascosti sotto il frontale come potete vedere siamo sotto acqua e ci possiamo restare all'infinito senza questa tuta non potremo restare per molto tempo guardate quando siamo in profondità ragazzi per oggi è tutto se il video vi è piaciuto e vi è stato tutto chiaro cliccate mi piace noi ci vediamo con il prossimo video ciao 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 ciao